L'Evangelista Marco come sempre non si smentisce. Breve, lapidario e decisamente poco diplomatico. Quei pochi versetti del primo capitolo sembrano più gentili verso lo spirito impuro che verso coloro che circondano Gesù di Nazareth. In realtà a tutti in quella sinagoga sembra chiaro che quell'uomo ha una certa autorità. Quello che dice, forse come lo dice, sembra diverso. Quello che fa però inquieta. Quell'uomo a Cafarnao insegna qualcosa di nuovo, in modo nuovo, e lo fa con autorità. Marco lo ripete per ben due volte in pochi versetti. Lo confesso, mi sarebbe piaciuto essere lì in quella sinagoga ad ascoltare. Mi sarebbe piaciuto guardare in volto quel maestro e chi lo circondava. Mi sarebbe piaciuto essere raggiunta dalle sue parole e dal suo sguardo. Sembra proprio che questo maestro scuota, anche se ciò che succede qui a Cafarnao in sinagoga è solo l'inizio. Tutto sembra puntare su altro, sulla novità di una parola, su un inatteso maestro, su opere straordinarie che interrogano, ma di cui nessuno sa darsi ragione. È davvero solo l'inizio. Poi seguiranno nello stesso giorno miracoli, guarigioni, e la gente inizierà a seguirlo, ad andargli dietro. In verità, forse più per le opere straordinarie che per l'autorità delle sue parole. Dio aveva promesso un unto, un Cristo salvatore, e in qualche modo la prima lettura ci fa ascoltare proprio la promessa strappata da Mosè a Dio. Dio avrebbe mandato un profeta per il suo popolo. Lui si sarebbe fatto presente non più con opere straordinarie e potenti, ma nella forza penetrante della parola affidata al profeta. Non più faccia a faccia arrischio vita per l'uomo, non più con temibili colonne di fuoco, ma con la parola divina affidata a parole umane. Dio lo promette, realizza per secoli questa promessa, ma poi va oltre e sceglie di farsi presenza prossima proprio nella carne, assumendo la carne. Dio ritorna a farsi incontro faccia a faccia e questa volta non solo con pochissimi amici eletti. Dio solleva l'umanità allo status di amici e come ad amici parla faccia a faccia, realizza l'incontro, genera prossimità e lo fa nel figlio, in quel Gesù di Nazareth che a quanto pare solo gli spiriti impuri riescono a riconoscere fino in fondo. Dove sta la novità di Dio che Gesù rende visibile e manifesta? Gesù chiama incontrando, parla guardando, guarisce toccando. Dall'incarnazione in poi non più i lontani e inafferrabili cieli sono la casa di Dio, ma la storia, il tempo, lo spazio, il limite, rivelano la sua vita, la sua azione, la sua opera. Quel sabato, proprio un sabato, circondato da nuovi amici discepoli, Gesù di Nazareth squarcia nuovamente i cieli e realizza la promessa di Dio. Colui che manderò parlerà in mio nome, aveva detto Dio a Mosè. Ma si sa, la parola divina, quella di Dio, non è fatta d'aria, ma di potenza. Realizza ciò che dice. Quello che Dio ha promesso nei secoli si è fatto realtà e pienezza in Gesù come mai ci saremmo immaginati. Allo straordinario braccio potente Dio ha preferito l'ordinaria presenza fisica di chi entra in una casa, di chi chiama, di chi tocca, di chi mangia, di chi ama. A noi, se vogliamo riconoscerlo, spetta un lavorio costante su noi stessi per non correre il rischio che spiriti impuri e malvagi lo riconoscano prima e meglio. In Gesù siamo onesti. Dio non ha reso le cose più semplici perché noi esseri umani abbiamo bisogno più di un Dio che salva che di un Dio che ama. La salvezza in fondo è una conquista raggiungibile con opportuno sforzo. L'amore invece è un dono, fatto di scoperta, ricerca, abbandono, libertà, totalità. Dio in Gesù ha scelto la seconda delle vie, l'amore, perché non ci ha voluto servi ma amici, addirittura figli e figli liberi. Ma con Gesù lui ha reso per noi le cose anche molto più sfidanti e interessanti. Noi non dobbiamo scegliere. Noi possiamo scegliere. Non dobbiamo seguirlo. Noi possiamo seguirlo. Non dobbiamo averne paura. Noi possiamo semplicemente eli. Grazie. Noi possiamo signolare. Noi marine. Noi. Noi. Grazie. Noi possiamo raggiungere. Noi salut jungle e civilians上 bell signature, Laura.